Non mi piace, non mi piace, non mi piace come persona neanche, è bravissimo, no, non posso negare che sia un bravo attore, però ecco, sono quegli attori che a me stuccano. E a chi no? Buonasera. Buonasera. Ciao. Buonasera. Come stai? Bene. Voi? Bene, grazie mille, lo so che te l'ho già detto 70 volte prima, però te lo dico anche adesso che registriamo. Grazie a voi dell'invito. Come sempre, no, grazie a te per essere venuto. No, grazie a te per essere venuto. No, dai, grazie a te. No, 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 ma stupisce che ci sia qualcuno che mi invita, quindi io accetto volentieri. E per chi ci guarda in video o ci ascolta in audio su Spotify, c'è gente qua, c'è sempre gente live, questo lo facciamo dal vivo a Bologna, quindi ancora di più grazie. Per chi non lo conoscesse, che in questo caso lavorando tu dietro le quinte è più probabile, nel senso che magari qualcuno non sa bene cosa fai, siamo qua con il nostro ospite Daniele Orazzi che fa la gente. La gente di cinema e principalmente di attori e attrici, ma anche di registi e di sceneggiatori. Sei preparatissimo. Sì, ho letto il sito. Ho letto il sito. La DO, DO Cinema, consulting and production, DO, io però, perché sono molto sveglio, ho collegato che era Daniele Orazzi tipo ieri. Io pensavo, do cinema adesso, io do out desk. No, no, Daniele Orazzi, una cosa semplice. E oltre a questo... E anche quello, però. E anche quello, sicuramente sarà un gioco di... Un po' di parole, di marketing anche, proprio per raccontare il DO e il DO. Il DO, esatto, che è anche quello. O in maniera anglosassone o in maniera italiana, insomma. Quindi vedi, alla fine ero ingenuo, però qualcosa avevo colto. E oltre a fare... Oltre a questo, hai fatto tantissime altre cose di cui parleremo, perché è un po' il nostro gioco stasera è capire cosa fa un agente, quindi cosa fai tu, cosa hai fatto. Però per dirne due o tre, hai lavorato, hai fatto un progetto in particolare molto bello, di cui ci hai portato anche la borsa dei 400 giorni, che è un film documentario basato su il lavoro che hai fatto in giro per l'Italia per andare a fare scouting in alcune delle principali città. Scouting diretto per trovare giovani attori e attrici, di cui poi parliamo. Più avanti sei nell'Accademia del Cinema, membro dell'Accademia del Cinema Italiano. Io come tanti altri, siamo, insomma, centinaia e centinaia. Nonostante siano tanti, sei tu che scegli, solo tu che scegli i film che vincono. Davide Donatello. Piera De Tassi sarà contenta di questa affermazione. Esatto, esatto, che salutiamo, che se vuole fare la sponsor... No, scherzo, ovviamente, scherziamo. Piera sarà benvenuta, anzi, invitatela. Sì, 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 assolutamente, sarebbe molto... Appena ci sono... E poi, vabbè, tra le cose che verranno fuori, tu hai un roster, cioè hai una serie di artisti italiani e internazionali. Complimenti per il termine, bravo. Qual è? Roster. Roster, sì. Perché nessuno sa cosa vuol dire roster. Io, per esempio. Roster è l'italiano, come si può dire? Il campo... Roster? Roster in italiano. Rosa, la rosa di attori e attrici. La rosa di attori e attrici, vedi? In inglese, roster in inglese. Sì, diciamo, in Italia si usa più dire scuderia. La scuderia, la scuderia, la scuderia. E vabbè, tra gli attori tuoi, fammeli dire, alcuni, perché tanto... Se vuoi, ma anche no. Possiamo anche non dirli. Se vuoi, sì, però dico... Allora, stiamo in senso, un secondo lì, li facciamo comparire. A posto. Sarà comodo per chi ascolta su Spotify. Li faremo comparire. No, vabbè. Però sono tanti e sono molto importanti, molto famosi anche, eccetera. Allora, per iniziare, noi facciamo sempre tutti le stesse domande che le fa in questo caso lui, perché è vivo ed è qua. Ci sono, sono tornato. Le ultime due volte l'ho fatto io doppiando un manichino. Sono domande della rubrica che abbiamo chiamato Come ci sei arrivato. Erano cinque, adesso sono diventate tre. E quindi comincia il maestro. Non so se me ricordo, però grazie per te. da avere ridotto a tre. E allora... Chi ti ha? Vabbè, ovviamente c'hai una carriera lunghissima. C'è stato, anzi, c'hai raccontato anche giù di qualche situazione. Però, nello specifico, chi ti ha fatto perdere tempo? Chi mi ha fatto perdere tempo? Sì. Chi mi fa perdere tempo? Anche. Meglio. Nomi e cognome. Nomi e cognome non li posso fare, però diciamo c'è un profilo specifico di quegli attori, che quei clienti, quei rappresentati che ti chiamano in continuazione più volte al giorno per chiederti sempre la stessa cosa. Quindi c'è proprio un profilo specifico. Ma tanto tu hai una strategia su queste... Esatto, che già conosci, quindi... Che è? Possiamo dirla? Diciamola. Non rispondere. Non rispondo. Ma c'è un denominatore comune di solito, non tanto delle persone, ma della richiesta. Di solito dov'è che si impuntano e si impallano? No. No? Cioè non è una questione magari paranoica personale, oppure una scelta, oppure... Fortunatamente, nel mio caso, rappresento persone che sono tutte molto diverse fra di loro. Quindi ognuno ha il proprio problema. Ha la sua paranoia. È la propria paranoia, quindi... È la loro anche particolarità, è anche la loro bellezza. Quindi quando tu vedi il nome che compare, pensi subito ecco cosa vuole. Già so cosa vuole, sì sì. Vorresti comunicargli un messaggio? Detto proprio. Senza sapere chi. Non rompete, basta. Arieggiare. Contate fino a dieci. Tutto bene. Tutto bene. Si risolverà. Questa funziona sempre. Esatto. E sappiate che chiunque stia pensando... Il tempo le inisce tutte le ferite. Intanto scusa ma non posso rispondere. Richiamo più tardi. Seconda, viaggi molto? Sì. Come viaggi? Moltissimo in treno, poco in macchina, in aereo ovviamente, però sì, diciamo treno soprattutto. Però se ci fosse un mezzo di trasporto libero di scegliere, non necessariamente deve essere esistente, non c'è il codice della strada, non c'è il limite geografico, storico, niente. Puoi scegliere un mezzo di trasporto. Teletrasporto. Teletrasporto. Cioè proprio senza dubbio, senza ombre di dubbio. Teletrasporto. Però prima c'hai detto una cosa molto interessante che in treno scrivi. Scrivo e leggo. Io viaggio spesso in treno proprio perché mi permette di usare quel tempo per leggere tantissimo le sceneggiature che non faccio in tempo a leggere a volte durante le ore di lavoro, che leggo spesso a casa, di notte, a letto, mentre mi casca l'occhio. Quindi sì, le leggo molto molto spesso e le leggo in treno. Però non potresti più dalle. O anche scrivo. Come? Se c'hai il teletrasporto non le leggi più. Però ti teletrasporti in una biblioteca e te la leggi in biblioteca, no? Ma più che altro no, risparmi tanto tempo, quindi se col teletrasporto arrivi subito in albergo, te le leggi in albergo. Giusto, giusto. Più comodo. Netta, sono assolutamente la tua. Ultima, che canzone metteresti al tuo funerale? Così. Quella della Bertè. Quella della Bertè. Il mio funerale. Ah, vita scalico. Diretto. Diretto, ma tra l'altro è proprio colto, perché questo è un pezzo, non posso spoilerare, però insomma si parla anche di un funerale all'interno di questo progetto che vi dicevo che esce ad aprile. Visto che ormai parliamone, perché tu mi dicevi di notte leggi le sceneggiature, ma a quanto pari di notte scrivi anche romanzi adesso. Quindi hai scritto questo romanzo che uscirà ad aprile, che si intitola? Ostia Wood. Ostia Wood, ovviamente facendo il gioco con Hollywood. e che racconta un po'... Racconta un po' la storia di un giovane, rampante agente che nasce in periferia e che alla fine tra mille perifezie incomincia una carriera che lo porta poi a divertirsi per tanti tanti anni. Autobiografico? No, in parte, in parte sì, diciamo che il nostro personaggio, il nostro protagonista è albino. Io sono roscio, lui è albino. Come la battuta che dicevo prima di Woody Allen in quel film, bello sforzo, hai cambiato, e mi hai fatto più basso. Esatto. Però mi dicevi che è anche un cane. È anche un cane, che però non è un... Che è un lagotto, ma è albino. Ma è un lagotto albino? Certo. Ah beh, ma allora è un autobiografico. No. Lagotti bianchi esistono? Sì, sì. Sì? Assolutamente sì. Ma devono essere bellissimi. Sì, sì, sì. Sono delle nuvolette, sono delle pecorelle. Bellissimo. Però mi dicevi che c'è un messaggio, insomma. Lo hai scritto un po' perché volevi divertirti, un po' per sfogarti. Sì, è una commedia, assolutamente. Un po' per raccogliere gli aneddoti, ma anche per, dicevi, dare un pochino un'idea che si possa fare questa cosa. Un incoraggiamento anche per i ragazzi che nascono in periferia, magari in zone disagiate, e possono poi invece, con molta caparbietà, con molta volontà, arrivare a dei risultati. Quello sì. Ma immagino che avrai cambiato i nomi, avrai cambiato tutto, però almeno... E con poche protezioni anche, direi. Perché non è che, insomma, nel mio caso ci sono delle famiglie alle spalle che hanno garantito. Insomma, il nostro è un lavoro, adesso meno, però quando io ho iniziato più di trent'anni fa era un lavoro che era molto tramandato di padre in figlio, insomma, sono famiglie che si muovono nel cinema. Invece adesso è più meritocratico. Sì, sì, sì. E tu ce l'hai molto comunque questa cosa di diffondere, di cercare di raccontare il fatto, cioè che cosa fa un agente, sostanzialmente. Sì. Quindi? Però, aspetta, prima di arrivare là perché volevo... Non li spiegate. No, 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 è perché volevo... Questa cosa sul libro, per poi così parlavamo del libro, che mi sembrava interessante, dicevi hai cambiato ovviamente i nomi, hai cambiato tutto, però qualche aneddoto, visto che non diciamo i nomi, si può dire qualche storia che hai detto, vabbè questa prima o poi la metto nel libro, l'ho messa, che racchiude, faccia capire un po' questa vita. Eh, sì, ci sono molti aneddoti che sono ambientati a Venezia, durante il Festival di Venezia. Diciamo, il Festival è proprio uno dei protagonisti del romanzo. E capita... Non so se avete visto Call My Agent, la versione originale, quella francese. No. Dove c'è una puntata dedicata al Festival di Cannes. Adesso ecco, faccio spoiler sulla prossima edizione di Call My Agent italiano, dove c'è, sarà una puntata che esce a marzo dedicata al Festival di Venezia, con Sabrina Pacciatore, che fa molto ridere. E quindi sì, moltissime cose nascono e si sviluppano, e soprattutto in quei dieci giorni proprio c'è un micro, un micro mondo, tu sei in una bolla, sei al lido di Venezia, in un isolotto, in un secolo che succede fuori da quel lido per dieci giorni. Quindi moltissime cose succedono in quei dieci giorni, concentratissime. Tra l'altro, adesso che esce, appunto è uscito adesso, sono usciti i teaser della nuova stagione, oggi proprio, che esce a marzo di Call My Agent, e dicevi che è stato utile. Cioè, per assurdo, non per assurdo, però magari uno non se l'aspetta, però ha cambiato un pochino la percezione. Cioè, mi dice addirittura adesso, persino mia madre ha capito cosa faccio, vedendo quello... Finalmente sì. Mia madre, come tante altre persone, però sì, molto, anche se è stato romanzato, edulcorato, comico, però ha aiutato moltissimo a capire a grandi linee cosa fa un agente. Se vogliamo semplificare, insomma, è colui che si prende cura degli artisti. E prima di Call My Agent dicevi che c'era una percezione un po' strana degli agenti? Sì, più che altro ti associavano un po' agli impresari, ti confondevano con gli uffici stampa, senza nulla togliere, però ecco, molto spesso venivo paragonato all'Elemora, che è un altro tipo di profilo. L'agente cinematografico proprio si occupa di tutt'altro, insomma. Io prima avevo chiesto a Edoardo, ma perché? Qual è il problema di essere associato? Ho capito. Infatti, adesso l'abbiamo capito. Ma dicevi che in Call My Agent, appunto, c'è qualcuno, c'è un personaggio che viene associato a te, cioè che pare che lo abbiano associato. Così mi dice lui, l'autore bravissimo genovese, che mi ha detto più di una volta che lo hanno fermato per strada a Trastevere. Mi ha detto, ma tu fai il ruolo ispirato a... Perché è alto, roscio, riccio, col nasone. Quindi, insomma, sembrerebbe che... Questo vuol dire che le persone a Trastevere sanno chi sei, come sei fatto, e hanno associato... Beh, però è bello, è essere molto divertente, no? Insomma, dopo tanti anni sono un po' conosciuto nell'ambiente. Per tornare un po' a quello che si chiedeva lui, cioè come si fa la gente, rivedendo un po' il tuo percorso, mi dicevi che tu hai iniziato facendo il modello. E da Ostia, ovviamente, come l'autofiction di prima. Da Ostia poi hai cominciato a fare il modello e poi da lì come... Viaggiato un po', la mia gente dell'epoca, perché appunto anche i modelli hanno gli agenti, la mia gente dell'epoca mi chiese, mentre facevo l'obiettore di coscienza, avevo mezza giornata libera, stavo facendo l'obiettore di coscienza al WWF, e mi disse, ma perché non vieni qui, mi dai una mano in ufficio, rispondi al telefono. All'epoca, appunto, era tutto telefono, era tutto messaggi in segreteria, fax, telegrammi, una modalità completamente diversa di lavoro rispetto ad adesso. Lei era da sola in ufficio e quindi ho cominciato così, facendo quello che oggi chiameremo saggista. Sono andato a fare il volontario, quindi per diversi mesi, gratuitamente, visto che avevo tempo a disposizione, sono andato ad aiutarla e da lì poi dopo mi sono appassionato e ho cominciato a lavorare a 360 gradi dietro i quinte. Sempre lì? Sempre lì per due anni, poi dopo lei è mancata, mi ha subito preso un'altra agenzia più importante dove ho lavorato per tanti tanti anni come uno degli agenti di riferimento e poi ho sentito l'esigenza, insomma, di mettermi in proprio. Quindi hai fatto proprio tutti i passaggi, la gavetta... Ho letto varie volte che il primo passaggio l'hai fatto con Alvaro Urvacher, mi sembra, c'è stato un momento in cui... Da quando mi sono messo in proprio, uno dei primi artisti che ho seguito è Alba, che è tuttora un'artista con cui lavoro. Eh, però, quindi sono tanti anni, quindi si creano poi dei rapporti, immagino, davvero di familiarità proprio... Anche familiari, nel bene e nel male, perché come in tutte le famiglie, poi a volte ci sono anche litigi, perché ci si conosce molto bene, e quindi si conoscono benissimo i pregi e i difetti l'uno dell'altra. Prima di arrivare al rapporto con gli artisti, che poi è ovviamente molto interessante, dicevi tu prima, ed è un tema da... Anzi, grazie Alba, ringraziamo sempre Alba. Se vuoi sponsorizzare questo podcast, ogni volta, qualunque cosa. No, però... Perché poi è cascata dopo Alba. Eh, esatto. Perché poi ha molti soldi e forse magari vuole sponsorizzare. No, in realtà sarebbe molto bello averla qua come ospite, quello chiaramente. Però è venuto fuori prima la differenza, dicevi, tra gente, ufficio stampa, manager, anche un po'. Ed è una di quelle cose da cui è un po' partita la mia idea anche di chiamarti, perché noi abbiamo cominciato a chiamare persone, incredibilmente vengono, tra cui tu, però non è chiarissimo cosa fanno, chi fa cosa, chi devi chiamare per fare cosa. E tu mi dicevi che in Italia c'è proprio un po' di confusione. Molta. Molta. No, un po'. Diciamo, mentre in America i ruoli sono molto definiti, ci sono gli agenti, ci sono i manager, ci sono gli uffici stampa e gli avvocati, qui in Italia molto spesso un'unica persona fa tutto. Adesso, piano piano, si sta un po' nel dettaglio lavorando sui vari profili. Adesso ci sono alcuni, anzi molti artisti che hanno in Italia un agente, un ufficio stampa e in alcuni casi un avvocato. Alcuni artisti che hanno soltanto un avvocato, pochissimi e molto famosi. Ci sono una miriade di persone, soprattutto giovani, che hanno un agente e un ufficio stampa, anche se non dovrebbero, a mio avviso. Perché ormai c'è questa moda di avere un'attenzione esagerata sulla comunicazione, sulla percezione. Cioè, dici, è come se dessero più importanza all'ufficio stampa, partissero da lì. Anche se magari fanno un piccolissimo ruolo, hanno già l'esigenza di avere interviste, copertine, spazi. Però questo non rientra un po' in quell'ottica americana del dire, io mi promuovo anche se non ho fatto grandi cose e mi vendo. È però che è molto rischioso, perché bisogna essere anche molto preparati per arrivare sul mercato. Se tu inizi a vent'anni, fai una piccola cosa e già hai la possibilità, perché in questo momento il mercato te lo permette, tramite i social, tramite le piattaforme, insomma di diventare subito qualcuno. Allo stesso modo hai anche velocemente la possibilità di passare proprio nel dimenticatoio, di diventare una meteora proprio a tutti gli effetti. Però nell'ottica di realizzazione di un film, quanto conta oggi anche il seguito che ha un attore, magari proprio sui social? Dipende, dipende da film a film, dipende dal mezzo, se appunto se è cinema, se è televisione, se è piattaforma, dipende chi produce. Ovviamente per le piattaforme ha molta importanza attualmente se un attore ha dei social, se ha dei follower. Non possiamo negare, purtroppo, che alcuni artisti vengono scelti in base a questo. Questa è la morte del talento. Non solo del talento, ma penso, Pilar ci diceva anche, Pilar, l'amica Pilar, scusatemi, Pilar Fogliati, che è venuto al nostro ospite, ci diceva che i produttori proprio scelgono in base anche al numero di follower, pensando che se uno ha un milione di follower vengono un milione di persone al cinema, cosa che ovviamente non è vera. No, assolutamente no. Ma questo, dicevo, è più un ragionamento che si fa più sulle piattaforme che al cinema. Fortunatamente il cinema è ancora, da questo punto di vista, abbastanza meritocratico, mi auguro. Poi ci sono ovviamente delle eccezioni, perché dipende pure di lì, cinema è cinema. Si fanno delle commedie. Oggi stesso proprio hanno annunciato, per esempio, che questo famoso tiktoker, super famoso, che io sono un boomer, quindi non conosco, però questo super tiktoker diventerà il protagonista di un film, spy story, comico, prodotto da Marco Belardi, che è un ottimo produttore, quello che ha fatto Perfetti Sconosciuti, per dire. Quindi se ti dovessi chiedere, giusto per spiegarlo, a chi non ha idea, un po' me la sono fatta. La differenza tra agente e ufficio stampo? Allora, un agente è colui che sceglie, insieme, in comunione con l'artista che rappresenta, che indirizzo dare alla carriera, quindi è colui che legge, valuta le sceneggiature che arrivano, se c'è la fortuna di riceverle, perché parliamo magari di attori famosi, che quindi fai un lavoro dove devi ricevere e valutare delle proposte. Quindi se ne arrivano sul tavolo dieci, ne devi scegliere una per quell'anno, quale può essere quella più giusta, in quel percorso specifico di quella carriera. Ovviamente ogni attore ha una carriera, è una strategia di percorso completamente diversa, quindi deve anche essere abbastanza lucido nel non omologare le carriere. Quindi ogni artista ha il proprio percorso. Quindi l'agente è colui che segue e decide insieme all'artista quali sono i percorsi da fare, le tappe da fare, le scelte, i film piuttosto che le fiction, quindi anche decidere quando apparire, se apparire in televisione o no con un prodotto, o se invece decidere di indirizzarsi soltanto al cinema, per esempio. Quindi è colui che imposta la carriera e che cerca di mantenerla almeno sempre allo stesso livello e anzi incrementarla. Quindi diciamo il compito dell'agente è quello. E una volta che decide questi passi e quindi deve convincere poi i produttori, piuttosto che i casting director, che sono quelli che scelgono gli attori nei film, che quell'attore è l'attore più giusto per il determinato prodotto, una volta che si arriva a quel livello là, cioè quell'attore o quell'attrice è stato scelto, l'agente sempre ha poi il compito con il produttore di entrare nella fase di contrattualistica. Quindi è colui che decide, cioè non che decide, però insomma, che cerca di fargli ottenere il massimo, non soltanto a livello economico, ma anche per tutti quanti i benefits che ci possono essere nel contratto. Un contratto in genere è fatto da 30-40 pagine, il contratto di un artista, e all'interno di quelle 40 pagine potete immaginare c'è di tutto. Quindi non soltanto quanto proprio squalidamente prendono per ogni posa o per ogni settimana di lavoro, ma ci sono tantissime, tantissime cose che... Ti postano curiosissimo? Ma i crediti, ovviamente i crediti, cioè quindi il billing, come appare il nome, in che grandezza, in che posizione, se è un cartello condiviso con un altro artista, oppure no, se va nei titoli di testa o nei titoli di coda, questa è la cosa più banale. Però ovviamente tantissimi, diciamo, benefits, e su questo gli americani sono molto più bravi di noi, per quanto riguarda i camerini, quindi il motorhome, se il camerino deve essere diviso con qualcuno, se è singolo, se ha la macchina che lo porta sul set, tantissime cose, la dieta che hanno sul set, il preparato atletico, perché molti devono ingrassare o dimagrire per un ruolo, quindi insomma tutte cose che si scrivono sul contratto. Sono più bravi di noi gli americani perché sono più abituati e quindi c'è più standard nell'essere molto precisi, o sono più bravi di noi nel senso che gli agenti curano di più quegli aspetti? No, sono più abituati perché è più normale per loro. Noi ci stiamo abituando, adesso piano piano, devo dire con grande soddisfazione, però piano piano anche la nostra industria si sta un po', insomma, si sta facendo largo. Invece prima era magari considerato una cosa come dai, adesso vieni su, fai questa cosa e non stai... No, prima era considerato molto spesso, ah si vuole il... Esatto, eccentrico. Sì, è un capriccio, deve dimagrire dieci chili per il personaggio, deve dimagrire dieci chili, non devi dargli una persona professionista che lo segua anche a livello medico. Basta che non mangi, basta che non mangi per rimanere a mangiare. Basta che non mangi e dimagrisci. Ma perché qual è la differenza con il mondo poi americano principale, anche le agenzie? Beh la differenza innanzitutto è proprio di numeri, là le agenzie, ci sono quattro grandissime agenzie e poi tantissime altre piccole, c'è la Big Hollywood e la Little Hollywood. La Big Hollywood in una stessa agenzia, diciamo ad esempio la UTA, piuttosto che la William Morris, l'ICM, insomma le agenzie più grandi hanno palazzi interi con centinaia di agenti dentro che lavorano, ma centinaia eh? Ogni agente con due, tre assistenti nel proprio team. Qua in Italia le agenzie più grandi hanno un team, un organico di 4-5 persone, ma le agenzie più grandi, quindi è proprio una questione di... Beh sì, però è un altro mercato, un altro giro di soldi. È un mercato veramente diverso. Cioè là ovviamente si fa un mercato su tutto, su tutta l'industria cinematografica. Qua ancora in questo non siamo abituati. Però il biglietto del cinema alla fine è l'utilizzo quasi minimo che c'è sulla filiera del cinema. Perché c'è tutto il marketing che c'è intorno e gli agenti gestiscono anche quello. Ma c'è, avevo letto in qualche intervista, tu in qualche articolo, dicevi che c'è anche una sorta di, non so, timore reverenziale, un po' di magari retaggio, di provincialismo, per cui facciamo un pochino più fatica mediamente a andare a competere con, andare a buttarci nel mercato. Parlavi della possibilità che ci fossero, che magari potrebbero essere di più artisti italiani, attori, attrici italiane che diventano delle star globali, cosa che invece succede molto, molto poco ancora. Sì, diciamo che lo star system in italiano è un momento di, secondo me, di stasi. da troppi anni. Perché ancora, se vai in America, i riferimenti che loro hanno ti associano sempre a Sofia Loren, Mastroianni, Mastroianni, Labellucci, però ecco, ci sono altri artisti che hanno poi veramente radicato bene in America. Però con le piattaforme sembra che qualcosa, qualche serie... Adesso con The White Lotus... The White Lotus, anche The Undoing... Sì, sì, però ecco, storia proprio molto recente. C'è ancora bisogno di... E bisogna capire se poi effettivamente questi personaggi, appunto, riescono a rimanere. E veramente a diventare, come è successo per gli spagnoli, per i francesi, a diventare e rimanere nell'industria anche hollywoodiana. Sì, ma per fare due nomi... C'è proprio una mancanza di volontà a volte dagli attori. E ti dici che è quello. Cioè perché per fare due nomi di spagnoli e di francesi... Adesso l'ultimo francese che mi viene in mente è Omar Sy, che comunque ormai è diventato spagnoli, vabbè, avendo il Sud America, è anche un po' più fa da Banderas in su, in giù, per l'Opecruzio, o chi ci viene in mente. E anche Scandinavia ci hanno avuto il loro momento. Però diciamo, c'è un problema che al di fuori del cinema è così in Italia. Cioè nel mondo aziendale, nel mondo musicale... Eh, ma non è sempre stato così, però, capito? Noi con il Made in Italy, dal cinema al design, abbiamo avuto proprio un momento d'oro. Ah, no, no. Abbiamo perso l'occasione di continuare quella possibilità. Siamo adagiati un bel po', ma in tutto. Ci siamo adagiati, sì. Abbiamo poi, cioè, veramente, il Made in Italy è una cosa fondamentale, cioè, eccezionale ovunque. Abbiamo Cinecittà, è conosciuta anche dappertutto. Cioè abbiamo la fortuna di avere dei grandi marchi anche. Cinecittà è un marchio riconosciuto ovunque. Dovremmo veramente a sfruttarlo di più. E questo impegno, in qualche modo, che tu hai rispetto a la categoria degli agenti, oltre che alla tua agenzia e il tuo lavoro, hai fatto anche, appunto, lavorato con... Stai lavorando sull'associazione degli agenti, ASA, sta per associazione spettacolo... Sta per agenti spettacolo associati. Agenti spettacolo associati, ho invertito. E perché? C'è anche un'altra associazione che si chiama LARA, Libera Associazione dei Rappresentanti Artisti. Perché? Cioè lo fai perché pensi che inevitabilmente se il sistema, se tutti lavorano meglio, poi ne viene di più a tutti singolarmente, banalmente, no? Assolutamente sì. Ma anche per un po', come vi dicevo prima, questo lavoro è un po' una giungla, no? Quindi c'è molta, molta improvvisazione. Se attraverso anche le associazioni si riuscisse a fare formazione, da una parte, per le persone che vogliono fare questo lavoro, e quindi far conoscere anche questo lavoro, far capire effettivamente come va fatto, c'è una deontologia professionale, anche un rapporto tra colleghi, quindi queste le associazioni veramente dovrebbero in qualche modo puntare molto su questo e sul fatto di avere un riconoscimento ovviamente anche a livello giuridico legale, insomma. Sì perché non c'è un albo. Non c'è un albo, noi siamo attualmente dei libri professionisti. Dei libri professionisti. Ma perché però invece c'è un percorso formativo che poi ti può portare a fare effettivamente la gente? Non c'è, purtroppo, appunto perché come dicevo prima è sempre stato un lavoro tramandato di famiglia in famiglia o di agente in assistente. Molti miei assistenti poi sono diventati agenti e hanno la loro agenzia adesso, anche di successo. Quindi è sempre stato un lavoro che si è rubato con gli occhi, con l'esperienza tantissimo. Io ho fatto recentemente un piccolo corso che può dare delle piccole basi introduttive a questo mestiere con l'Università Unimarconi. E poi andiamo sugli attori magari un po' di più, però l'ultima cosa mi dicevi prima, un po' per sopravvivere, un po' per gusto, un po' per carattere, immagino, diversifichi. Cerchi di fare un po' più di cose. Per sopravvivere, però. Per sopravvivere. Allora, abbiamo visto che... Per sopravvivere mentalmente, non economicamente. Esatto, che scrivi romanzi. Adesso scrivi romanzi. Sei dentro col My Agent, fai finta che ci sia un altro, in realtà sei tu, questo non ho capito. Però, esatto, sono io. L'associazione e il progetto WeDo, che immagino che sia anche quello, è stato una bella... È stato molto impegnativo, molto divertente. E sono tutte cose, soprattutto questa cosa di WeDo, che mi mantengono sempre con... Veramente con l'attenzione, con la curiosità sul mondo giovanile. Con la possibilità di dare possibilità a nuovi artisti giovanissimi di entrare nel mercato. Lo scouting, da sempre, da quando ho iniziato questo lavoro, lo scouting è sempre stato un po' il mio pallino. E le due caratteristiche, ne parlavamo prima, che mi avevano colpito, si è andato in giro, no? Per incontrarli direttamente tu nelle città, invece che prenderli tutti a Roma, che anche questo è stato interessante, mi sembra. Però dovevano avere due caratteristiche, per forza, proprio di base, per entrare, door selection. E dopo, quali erano queste due caratteristiche? Sicuramente la lingua. Dovevano essere bilingue. Tra l'altro bilingue, mi chiedevo, bilingue inglese o bilingue in generale? Dovevano per forza, ok? Sì, sì, non bilingue, però insomma, saperlo perfettamente, ecco, poi dopo uno ci può lavorare, si può sempre migliorare, però avere proprio una conoscenza, insomma, di un certo livello. Una era questa, e l'altra era essere under 30. Under 30, però ce n'era una anche che era non essere famosi sui social. Sì, sì, non essere proprio, diciamo, essere personaggi inediti da questo punto di vista, non essere attori che hanno già, che avevano già avuto, diciamo, esperienze o agenzie. Volevo creare un nuovo gruppo di lavoro, che appunto si chiama We Do, un nuovo gruppo di, un nuovo roster, che si chiama We Do, perché tutte le declinazioni sono sempre con il Do, nelle cose che faccio. Che ho scoperto ieri, cosa vuol dire? Cioè, il libricino è Do Generation, generazione Do. Quindi volevo ricreare proprio un roster dedicato, proprio esclusivo, inedito, da presentare sul mercato, con i migliori giovani ragazzi al di sotto dei 30 anni, che erano, insomma, quelli che io avevo avuto la possibilità di incontrare nelle varie città, nelle varie tappe. Che tra l'altro la cosa anche interessante è che c'è una sorta di test a tempo, sostanzialmente, alla fine di questi due anni, no? Sì, perché il progetto dura due anni, finisce adesso, a febbraio, infatti so che alcuni di loro sentono la sedia che scotta. Se ci state seguendo noi abbiamo i nomi, e adesso vi diciamo chi rimane dentro del cinema. No, senza dubbio penso che anche le persone che non avranno la possibilità di continuare questo percorso, insomma, saranno rimaste contente dell'esperienza che hanno fatto, perché sono venuti con noi ovunque. Abbiamo portato tutto il gruppo, l'abbiamo portato a Venezia per tre giorni, in un altro festival, Maratea, hanno fatto anche un contest sui monologhi, hanno avuto la possibilità di fare tantissime masterclass con tantissimi personaggi famosi che in qualche modo gli hanno dato dei suggerimenti preziosissimi per chi inizia la carriera e hanno avuto la possibilità di essere già, per esempio, semplicemente in questo documentario che abbiamo fatto, che è stato presentato a Torino, che si chiama I 400 giorni, quindi loro erano già i protagonisti di questo documentario, quindi hanno già alle spalle la possibilità di poter essere presentati con un film. Perché l'idea poi, dopo, è quella di creare un reality alla The Apprentice, per fuori. No, non ancora. Non siamo ancora reali. Poi ti chiedi a vedere l'attesa sull'idea. Però un'altra cosa che dici, a proposito di questo momento che dovrai vivere a febbraio, in cui dovrai andare a dire sì o no alle persone, ma è inevitabile, fa parte del lavoro. Ho letto varie volte che dici, io sono sempre molto diretto, immagino semplicemente anche sincero, non diretto per forza in una maniera, senza nessun tipo di brutalità. E poi dici che paga sul lungo periodo, cioè essere, dire guarda, evidentemente non sono il tuo agente, oppure c'è inutile che continuiamo all'infinito, una ricerca che tanto non sta fruttando, magari lo trovi da qualche altra parte. Che non porta da nessuna parte, sì, può essere magari più giusto per un'altra agenzia. Oppure semplicemente non è, cioè, è capitato raramente che sono stato così diretto, però è capitato anche, insomma, mi sono sentito a posto proprio scienza nel dire a qualcuno, non è proprio per te questo lavoro. Perché è anche un nostro dovere quello, di dover essere molto sinceri con alcuni giovani che hanno delle aspettative, ma se tu sei, dopo 30 anni, hai comunque la possibilità di riconoscere che veramente ci sono persone che non sono fatte per questo ambiente, per questo lavoro. anche semplicemente, forse caratterialmente, perché potresti avere anche un minimo di talento, ma caratterialmente sei una persona che... E c'è, mi è stato qualcuno o qualcuna su cui ti sei ricreduto proprio malamente, e hai detto, cavolo, cioè, che abbaglio. No. Dopo 30 anni di spesso. Non ancora. Non ancora. Magari potrà sempre capitare, però no, per il momento no. Beh, comunque, tra l'altro mi dicevi anche qualcuno, è capitato che andasse via e poi tornasse, cioè ci sono, questo per dire che poi, appunto, essendo tanti gli agenti, essendo tanto il lavoro, capita poi che uno debba lavorare. Poi perché ci sono le agenzie che vanno, ecco non è il mio caso, però ci sono le agenzie che vanno di moda, c'è la moda dell'agenzia, quindi ci sono delle agenzie che lavorano molto bene per 3-4 anni, stanno sul picco e poi dopo si siedono un po', quindi in quel momento di, insomma, di app, tutti quanti i lettori vogliono andare in quell'agenzia. Capita spessissimo una cosa normale. E tu dici, vai, vai. Tu vai. Vai che ci vediamo fra due anni, vai tranquillo. Ma invece a proposito di aura della gente, da fuori è un'idea piuttosto strana, perché uno non sa cosa fate, adesso più o meno l'abbiamo imparato. Dentro immagino che davvero voi abbiate un po' le redini di queste carriere, quindi qual è la, normalmente, quando entri in una stanza, ovviamente dentro l'ambiente, perché se entra in una stanza qua siamo abbastanza tranquilli, però qual è la seconda tale idea che uno ha? Non tanto di te personalmente, anche quello se vuoi, però della gente che ha veramente così potere, perché quella è la verità poi. Se vogliamo usare la parola... Ma la potenza, cioè potente no. No, però hai il potere, nel senso, io immagino che se qualcuno vuole venire da te a parlare, e a chiederti una cosa, mi fai usare, possiamo proporre il mio film, possiamo proporre il mio attore, vorrei entrare come attore. Insomma, se tu dici sì o no, cambia per molte persone, non c'erano, cambia la vita. No, poi è come tanti altri lavori, però come... Sì, diciamo che adesso, purtroppo, non hanno... E per quello che ho fatto questo progetto sul andare in giro per le città e conoscere gli attori, adesso non hanno più la possibilità di venire a bustare, e quindi avere quell'approccio fisico quotidiano, come capitava prima, veramente, tanti anni fa, nelle altre agenzie dove lavoravo, o che ho avuto, c'era un giorno dedicato in cui gli attori che si volevano proporre venivano quel giorno, facevano il colloquio, c'era una lunga fila di persone che volevano fare l'appuntamento, adesso non è più così, quindi adesso riceviamo in continuazione centinaia di mail tutti i giorni, con attori che vogliono essere presi in considerazione, ma tante, tantissime proprio, sembra che tutti quanti vogliano fare solo questo di lavoro, veramente mi stupisce, in questo forse i talent non hanno aiutato, perché veramente illudono un po' troppe persone. Però c'è un messaggio molto carino sul vostro sito, cioè scriveteci, perché tanto però sappiate che se entro TOT, mi sembra o qualcosa, non riusciamo a rispondere, perché riceviamo tantissime email, quindi subito uno capisce che effettivamente... Cacchio, hai proprio studiato bene il sito. Sì, ho letto un sito, non è che adesso... Hai guardato il sito prima di intervistarmi, beh dai, pensavo peggio. Che idea avevi di me prima? Nessuna, giustamente, giustamente. Però adesso c'è meno possibilità di avere questa possibilità. Perché prima potevano venire, adesso non posso, banalmente perché non c'è più tempo. Per fare più tempo, giustamente. Non c'è più tempo, io nel mio caso, io sono pochissimo in ufficio, sono sempre in viaggio, quindi io analizzo via mail i vari profili, io e il team con cui lavoro, difficilmente, onestamente lo dico, così ci sarà pure un messaggio che rimarrà, difficilmente io rispondo a un'email di una persona che si propone via mail, mandando due o tre foto. Proprio non è il mio stile, non sono quello che sceglie un artista perché c'è una bella faccia. Però questo vuol dire che ti laggi tutti i lavori che arrivano, o comunque gran parte, per poter... Per quanto riguarda i registri sceneggiatori? Sì, per poter scegliere. O ci sono dei modi un po' più creativi che dici... No, fortunatamente ci sono delle persone che appunto mi aiutano in questo lavoro, quindi ci sono anche dei lettori che fanno un po'... No, grazie. Che fanno anche un po' di scrematura nella selezione dei progetti e fanno quelle che si chiamano insomma schede di valutazione di una sceneggiatura perché è impossibile leggere tutto quello che è lì. Quindi per quanto riguarda sceneggiatori, registri, autori in generale, insomma mi avvalgo di persone che mi danno una mano nel leggere. Per quanto riguarda gli attori mi avvalgo di progetti miei diciamo che creo per andare a scegliere... per fare scouting. Difficilmente prendo persone che mi scrivono un'email. Gli artisti che vogliono essere eseguiti da me o dalla mia struttura arrivano per altre vie. Mi cercano per... il mio numero ce l'hanno tutti. Alcuni artisti che vogliono essere insomma rappresentati... Lo trovano. Lo trovano. Chiedono in giro. Quando ho letto quel messaggio sul sito ho pensato gli scrivo e non mi risponderà perché evidentemente... Ma non fare attore. No, esatto. Allora nell'oggetto ho proprio scritto una cosa che fosse chiarissimo. Volevo scrivere non voglio fare attore. Non è una cosa mia e basta. Alzo le mani. Alzo le mani. Poi un'altra email. Sono quello di prima. Quindi ti chiedo un'altra cosa. Eh va bene. Però avevo letto questa cosa ovviamente noi come ti dicevo siamo arrivati a questa idea di capire cosa fa la gente anche perché invitiamo le persone e capiamo come fare. E tu ho letto che nelle interviste o comunque nella parte di promozione che fanno gli attori e le attrici in giro per l'Italia c'è ancora un po' dicevi una tara sul gossip per cui che rende un pochino più difficile fare una promozione a livello capillare sul territorio. Non mi dire che ho studiato anche qua perché se no però cioè mandare in giro facilmente le persone insomma qui in Italia è un po' diverso che mandare magari negli Stati Uniti dove sono tutti un pochino più professionalizzati da questo punto di vista magari questo lo mando invece di chiedere del lavoro gli chiedono tuo ragazzo o tua ragazza queste cose qua quindi è vera questa cosa è verissima poi ci sono alcune persone che magari ci si groggiolano su questo proprio che gli piace e non vedono l'ora alcuni artisti proprio che basano la loro la loro popolarità anche sulla parte del gossip che fa parte molto del del loro lavoro però difficilmente sono artisti che lavorano insomma nel cinema con autori quindi alcuni miei clienti tra virgolette per miei intendo quello che dicevo prima non voglio il possesso non sono i miei attori alcuni miei alcune persone con cui lavoro ecco hanno un profilo abbastanza chiaro anche a livello di comunicazione e quindi in quel caso dove io anche faccio l'ufficio stampa oltre che la gente per alcune persone è molto è così pongo molta attenzione su questo sulla scelta del giornalista che deve intervistare sulla testata con cui deve insomma a cui deve rilasciare l'intervista perché conosco benissimo l'artista di riferimento quindi so che quell'artista si troverebbe in imbarazzo di fronte a una domanda troppo personale e quindi poi dopo in futuro non rilascerebbe di nuovo l'intervista a quel giornalista o a quella testata quindi è un modo anche di protezione e di costruzione anche in questo caso di una rete di diciamo di persone che si occupano di comunicazione e di stampa che deve essere e devi scegliere anche quello devi scegliere le persone con cui gli artisti si devono interfacciare però dicevi che siete in cinque in agenzia e che avete oltre cento artisti quindi cioè deve essere un vasto sì ma non tutti hanno una mole di lavoro diciamo diciamo l'agenzia da sempre è stata è diciamo costruita su due binari paralleli c'è quella delle grandi star che sono diciamo una ventina che hanno una mole di lavoro quotidiana molto delle piccole industrie sono tante sono venti piccole industrie e poi parallelamente c'è l'agenzia degli artisti ancora non conosciuti ancora non famosissimi o degli upcoming dei giovani quindi insomma non tutti hanno le stesse esigenze gli artisti come dicevamo prima gli artisti noti e famosi hanno anche un team che mi dà cioè che comunque sono con me nel costruire quella carriera quel percorso quindi l'ufficio stampa il social media manager lo stylist l'avvocato quindi insomma c'è una squadra per ogni artista che ti aiuta e con cui collabori per gli altri attori per quelli più giovani tutto questo è un lavoro che è un lavoro diverso devi immettere queste persone sul mercato quindi devi fare anche un lavoro diciamo di promozione completamente diverso devi convincere i registi i produttori a prendere quella persona di qua il contrario molto spesso devi convincere in maniera diplomatica alcuni produttori che quell'artista tutto sommato non è poi giustissimo per quel film senza offenderlo quindi tu sei sempre la stessa persona che deve avere queste due modalità di lavoro magari lo stesso giorno magari la stessa ora con lo stesso produttore ma guarda che se non è adatto c'è invece questo non c'è nessuno ho provato ieri mi ha arrivato un'email ma l'ultima cosa sull'ufficio stampa sul media training immagino cioè da una parte devi stare molto attento alle domande che vengono fatte agli artisti che segui dall'altra e forse questo mi pare che forse stia un po' cambiando nel senso che stanno migliorando in questo senso ma mi arrogo il diritto di fare questo giudizio che non ha nessun valore in realtà nella capacità di essere intervistati cioè un altro modello tipicamente americano che funziona meglio è che a qualunque livello vengono intervistati sono molto carichi per dare qualcosa all'intervista per dire per raccontare l'aneddoto per qualunque anche la domanda più scema del mondo dicono sì sì e infatti vanno avanti qui invece c'è una cosa molto diversa per una questione puramente culturale adesso mi sembra che anche nei talk show si sembrano un po' più preparati c'è questo aspetto nel lavoro? sì a voglia a me ha fatto veramente molto ridere i primissimi anni in cui c'era Netflix qua e sono stato diciamo il primo che ha avuto la possibilità attraverso Marco Polo che rappresento l'artista che ha fatto Marco Polo che è stato scelto in Italia ma dopo una selezione mondiale di capire qual è il loro modo appunto di approcciarsi alla comunicazione e come una piattaforma come in quel caso era Netflix ma adesso lo fanno tutti quanti possa in qualche modo diciamo indottrinare l'artista il loro diciamo il loro protagonista che per loro in quel momento è il loro tesoro che devono veramente mettere nella condizione migliore per promuovere bene il prodotto il titolo mi sono stupito mi sono anche molto divertito perché ti danno proprio un decalogo su come ti devi approcciare alla stampa quindi ti danno queste due pagine con tutti i consigli adesso è diventata una cosa usuale però va sicuro che 15 anni fa no non era così e quando hai iniziato invece a lavorare con artisti internazionali cioè hai visto già che c'era questa differenza o no 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 devo dire perché gli artisti internazionali con cui io ho cominciato a lavorare erano comunque non ancora famosissimi quindi non erano già quelle star che sono adesso quindi no all'epoca no adesso lo vedo c'è proprio un approccio comunque veramente ancora diverso tra l'America e l'Europa questo senza dubbio perché gli americani appunto hanno questa non soltanto nel cinema no 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 ma è una cosa proprio una modalità comunicativa culturale proprio il loro modo è incentivante qualunque cosa gli viene chiesta qualcosa gli viene detta ci sono interviste però sono anche molto furbi cosa che ecco molto spesso in Italia non perché voglio portare male degli artisti italiani però ecco si dovrebbero un po' forse un po' smaliziare in alcuni casi gli artisti italiani perché invece che quando ti fanno una domanda imbarazzante o la prendi nel verso sbagliato si vede subito tira bui si vede sei in diretta cioè questa cosa ecco un americano non te lo fa capire questo invece se la gioca subito a suo favore se la gira a suo favore ma invece perché non parliamo di questa cosa sì 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 l'italiano invece lo vedi proprio sta lì cambia il volto diventa nero sì è che perché mi stai chiedendo del mio divorzio quando sto qui facendo la promozione per il film di cui sono protagonista no ecco servirebbe quella è come se fosse più difficile per noi distinguere proprio i due linguaggi c'è il linguaggio strumentale del lavoro e il linguaggio emotivo personale per cui se ti fanno una domanda ma tu stai facendo un'altra cosa in quel momento possono chiederti anche la cosa peggiore del mondo in teoria e tu vai dritto poi mi viene in mente un'intervista famosa di Robert Downey Jr in cui a un certo punto lui si ferma e dice basta adesso però basta perché sono venuto qua per parlare del film e mi stai chiedendo cose che non c'entrano nulla però anche lì bisogna avere poi la sicurezza per farlo e allora non abbiamo fatto nomi siamo stati bravissimi no non abbiamo fatto nomi non poteva andare sempre così a un certo punto dimmi solo questo però tu hai dei nomi importanti molto famosi anche internazionali e quando ho guardato nel roster e ho visto questa questo nome dicevo però quella persona lì che comparirà adesso in sovraimpressione la ha solo te come agente a te come agente in Italia a te come agente in Europa cioè come funziona questo gioco dipende da persona a persona però sì per alcuni artisti internazionali io sono l'agente di riferimento in Italia quindi il grande artista hollywoodiano magari ma in Italia il mio omologo in Francia e così via per altri artisti sono magari il rappresentante europeo quindi gestisco tutta la insomma l'industria europea per altri invece gli artisti italiani che sono diventati poi internazionali io sono quella che in termini tecnici si chiama l'agenzia madre Mother Agency e sono colui che crea il team quindi per alcuni artisti italiani io sono quello che è riuscito magari a creare un team giusto e per ognuno diverso quindi uno stesso artista può avere un agente in Francia uno in Germania uno in Spagna uno in America uno in Inghilterra però ecco l'importante è che questo team di agenti di colleghi tutti lavorino per lo stesso obiettivo e molto spesso la differenza che c'è qui in Italia che dicevo prima sull'ufficio stampa che in alcuni casi gli uffici stampa non hanno questo approccio di team nel rispetto della gente a volte creano adesso mi odieranno creano dei danni in alcune carriere e rovinano una volta delle strategie di percorso di alcuni artisti proprio perché li bruciano magari sul mercato chiaro e stavo facendo una stavo facendo una riflessione molto banale hai corrispondenti quindi lavori con gli Stati Uniti lavori con l'Europa lavori quindi tu non dormi di base non dormi mai no si dormo mi piace anche dormire tra l'altro però sono una persona notturna io quello si senza dubbio quindi sono molto più prolifico lavoro molto di più la notte vengono tante idee insomma e come si fa ad arrivare a lavorare con alcuni degli artisti più prestigiosi più famosi in Italia cioè come come si arriva allo standing come è successo non lo so ti devo dire la verità un giorno improvvisamente hanno cominciato a cercarmi io quello che dicevo prima io non cerco mai nessuno sono gli altri che non voglio andare io a bussare ad alcune porte non perché mi senta chissà chi perché proprio mi è una questione di vergogna non sono io preferisco che siano le persone che sono convinte nel voler lavorare insieme quindi aspetto che siano loro che mi cerchino e improvvisamente non so evidentemente è successo qualcosa per cui il mio lavoro è arrivato alle alle orecchie delle persone che cercavano un rappresentante in Italia e così poi diciamo da cosa nasce cosa anche i rapporti ovviamente con le altre agenzie se tu hai dei buoni rapporti di rispetto di ontologico anche di diplomazia cioè se riconoscono comunque una figura che può avere uno tra virgolette standing internazionale che in qualche modo si equipara a quello loro sanno che affidano quel talent a una struttura abbastanza uguale alla propria quindi forse questo anche i colleghi i miei colleghi esteri che hanno mi hanno fatto un po' pubblicità Quanta mondanità ti tocca per mantenere i rapporti che verrebbero chiamiamo per usare una parola brutta di networking però e quanto ti piace magari poi in realtà per questioni di carattere ti diverte? Prima mi piaceva molto di più adesso sono un po' un orso quindi quando posso evitare di andare in alcuni posti lo faccio volentieri non si può negare che per fare questo lavoro bisogna frequentare alcuni ambienti quello per forza ma io cerco di concentrare soprattutto questa cosa al di là delle prime insomma delle occasioni insomma di lavoro però cerco di concentrare molto questa attività mondana durante i festival quindi se io dedico in quei dieci giorni di festival mi do il massimo ho veramente cominci anche a rispondere al telefono per dire cosa assurda concetto tutto in quei dieci giorni e poi dopo diciamo ne faccio tesoro durante l'anno quindi quanti festival in un anno? tre cioè Cano? Venezia e? Berlino e Berlino? pulito poi ne faccio tanti altri anche più piccoli però diciamo questi tre sono i più ok non vai a Sundance Toronto sono sporadici però diciamo quelli fissi sono quei tre e poi tanti piccoli invece piccoli che mi divertono di più perché vado a vedere anche delle cose che diciamo che trovo e che in altri festival più grandi non trovo quindi ho anche delle collaborazioni con alcuni festival che possono nascere appunto per il fatto di diversificare c'è un festival tra l'altro molto bello che è Maratea nel sud che sta crescendo di anno in anno con cui per esempio da due anni abbiamo fatto questo progetto insieme a un altro festival che alice nella città che è un contest su monologhi proprio che si chiama Young Blood dove hai portato i ragazzi dove hai portato i ragazzi che è stata un'esperienza stupenda allora io avrei altre 50 domande però ci dobbiamo fermare però una quota frivolezza la vorrei mantenere ma almeno alla fine almeno alla fine siamo troppo seri no allora io ho preparato abbiamo preparato questi giochi io che paura ecco no dimmi tu che livello di esposizione vuoi noi abbiamo preparato i diversi livelli allora il gioco è una serie di attori ok e tu ci dici ci lavorerei o non ci lavorerei oppure è facile lavorarci o non lavorarci oppure dio santo no oppure che figata ok ora diversi livelli di esposizione bisogno del kinder vai si anch'io fantastico faccio questa cosa allora vabbè ho il bocca piena bello il kinder in diretta benissimo kinder sponsorizzate questa realtà bravo è finita non posso più parlare chiamala merenda comunque se lo meritano tra l'altro è la prima volta che mangiamo qualcosa tranne per vedere giochini panni con quell'aneddoto che ci portiamo avanti da un anno che panno fino fece il gioco con noi rispondi a bocca piena io feci la domanda non feci in tempo a finire la domanda aveva già digerito tutto quindi era proprio impossibile comunque va bene ma o te li leggo possiamo fare anche la sorpresa ovviamente si puoi anche montarlo dopo allora o te li leggo direttamente quindi tutti li sentono e tu commenti e in questo puoi scegliere se solo americani quindi lontani da noi o anche metterci gli italiani quindi sappiamo che stiamo tutelando molto perché altre volte oppure li guardiamo solo noi la gente non sa cosa sono però a questo punto tu mi dici delle cose scegli tu non li facciamo vedere non li facciamo vedere allora però ci vedo anche gli italiani quindi i primi sono tutti italiani ovviamente ho tolto quelli del suo roster perché evidentemente mi avrebbe detto che figata che figata che figata non è che mi può dire divertente questa cosa è vero? divertente intanto che mangia avresti mai pensato la fame nervosa intanto avresti mai pensato di trovarti in una situazione con un gatto su un quaderno un kinder sorpresa e fare questo gioco no vedi penso se portavo anche il cane e te l'ho detto portalo Byron ha un cane che si chiama è un lagotto romagnolo marrone che si chiama Byron pensate che figata non è un gatto però non so va bene i primi sono attori attrici italiani molto famosi che tutti conoscete ma non potrete sapere chi sono allora mi piace non ci lavorerei perché? gestita da un collega simpatico simpatico no davvero più giovane bellissimo e diciamo questa persona poi dopo la fine ha preso questa è una cosa simpatica ha preso gli scarti di alcuni lavori che ho rifiutato attenzione mi sto divertendo secondo te la dovremmo invitare? sì assolutamente sì secondo te viene? no no abbiamo già provato tra l'altro non mi piace non ti piace come non mi piace lo trovo ormai veramente non mi piace come persona neanche è bravissimo è un bravissimo attore ci mancherebbe altro un sacco di amici come lui bravissimo attore senza dubbio no non posso negare che sia un bravo attore però ecco sono quegli attori che a me stuccano e a chi no cioè dopo un po' non è possibile ancora ancora mitico mitico va beh questo era facile eh beh uno spasso la conosco da una vita da tantissimi anni vi dirò una piccola cosa che vi troverete anche nel libro che è in Ostiawood perché il personaggio ha iniziato la sua carriera appunto quando faceva il modello e faceva anche degli speciali di Nunella Rai quindi l'ho conosciuto anche in quell'occasione ah sì tra l'altro io sto vivendo l'esperienza del pubblico perché non vedo ah beh dico a me è un amico è un amico una persona che stimo è un un attore molto bravo giovane e molto fedele mi piace un sacco il fatto che si è diventato molto famoso in tempi molto veloci nonostante questo rispetto ai suoi colleghi ha continuato a lavorare con una piccola agenzia ah quindi invitatelo potrebbe venire sì invitalo tu ah non ci fai da gente ah scusa ho sbagliato ho capito male io dai altri due l'ho conosciuta recentemente è venuta in ufficio lei sta avendo il suo hype adesso il suo super hype è venuta in ufficio perché voleva essere rappresentata da me poco prima che ripartisse la sua email l'hai letta non mi ha mandato mi ha cercato direttamente ha chiesto il mio numero a qualcuno abbiamo fatto recentemente un appuntamento ti dico altro ma non è ancora non la rappresento non è con lo stesso a dire no ah no certo eh sì eh sì sì della prima hai capito mi diverto aspetta che c'è ce la farei mai no eh cioè devo ammettere che ci ho anche provato non direttamente però un mio collega all'epoca un mio socio un ex socio e ci aveva lavorato sì ma non e ti ha anche detto lui che non è cosa no lui figura è appassionato del genere quindi anche un po' autolesionista quindi facciamo proprio questi profili molto particolari però ecco è quel tipo di attrice che cerca la notorietà attraverso non dei delle performance ok ecco eh sì poi sono stato diplomaticissimo io lei l'ho incontrata la prima volta a Marattea a proposito non al festival in un altro evento e sì è arrivata in condizioni basta questo dai bollito come ma no ma sono rimasto solo io che lo difendo come veramente eh beh sì dici diciamo fa parte di tutto di un cinemino che a me non di un giro di cinema che a me non piace eh no perché lo vorrei fare tutti ma non è che posso tenervi qua fino a mezzanotte e vabbè sono rimasti due italiani poi basta divertente cioè questo bollito e questo divertente cioè questo è divertente nel senso che mi diverte il fatto che sia diventato nonostante negli anni sì nonostante che sia che sia diventando sempre più simile a un ex personaggio molto famoso della politica italiana ah è vero beh ormai è uguale separati dalla nascita è uguale però è divertente cioè tra l'altro io gli ho presentato la sua attuale moglie eh infatti non volevo dirlo perché sennò poi si capisce però sì stanno ancora insieme no la sua attuale moglie ah la sua attuale moglie ah chiedo scusa ormai qua siamo siamo in un altro pianeta scusate sta diventando dai lui è ovviamente mi piace è un bravissimo attore sì lui c'è poco ci lavorerei volentieri ci lavorerei volentieri è una generazione con cui io non lavoro molto spesso quindi mi divertirebbe cercare di trasformare la sua carriera e anche dargli appunto un una via un po' diversa rispetto al solito perché diciamo è entrato un po' in un tunnel che dove fa sempre lo stesso personaggio l'ultima beh un pezzo di cuore sì 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 perfetto è una di quelle attrici che mi diverte molto ma lei è diciamo in assoluto la più grande in questo che deve per forza qualunque cosa conquistarti cioè lei se deve conquistare questo bicchiere lei veramente fa l'amore con questo bicchiere ah quindi non è una finzione quello che sei lei proprio è così sì sì cioè lei chiunque ha di fronte deve proprio si sforza per insomma ma che figata ma Daniele grazie è stato bellissimo ma non vorrebbe finire no io continuo allora se vuoi se vogliamo rubare un altro minuto no non vogliamo rubare sì ma non stiamo chiudendo però bravo però bravo che mi hai ricordato il Prugis bravo credevo stesse cadendo no esatto adesso che abbiamo un minuto se vuoi facciamo quello degli stranieri quindi che non c'è però li leggiamo e tu ci dici sì ci piace o non ci piace una roba più più intanto stai mangiando un sacco bellissimo allora di quelli da quelli più famosi adesso che sono gli Oscar Jeremy Allen White mi piace tantissimo sì figata Emma Stone beh non ce la vorrei domani cioè proprio mi sa che questo andrà tutto così però Margot Robbie grazie però più la prima più Emma Stone più Emma Stone più Emma Stone attenzione vedi che già c'è della maretta Cillian Murphy sì è un po' strano però è il suo forte sì però è un po' artificiale io che gli facevo delle paranoie dicevo no non dice nulla qualcosa di artificiale che non mi convince bravissimo cioè stupendo però ecco esteticamente una che sta diventando attrice adesso due lipa vero però non penso di essere il personaggio giusto ok non posso essere il suo agente diplomatico diplomatico Johnny Depp l'ho conosciuto ci ho lavorato per via traversa non su un film però è stato ospite al Festival di Roma l'anno scorso bel folle sì eh è vero sì ne ho troppi ne ho troppi tu hai ancora un sacco di Daniel Day Lewis sì mi dico per forza mi dico tanto quanto Dustin Hoffman sì dici a quel livello lì beh ci sta effettivamente adesso quelli un po' più bassi cioè bassi nel senso da commerciali The Rock dai dai prendi sotto l'ala The Rock dici no però sai quanti progetti tu fai con un film di The Rock giri l'Italia prendi tutti i ragazzi venite cinque anni vi tengo no no The Rock no Zac Efron no Zac Efron sta cominciando a fare un no ci ho provato ma non ci credevo neanche io Vin Diesel no Jason Momoa no Giacomo Belordi sì beh assolutamente tra l'altro mi hanno fatto uno scherzo in ufficio perché noi abbiamo questo roster famoso e lo modifichiamo diciamo di mese in mese no perché a volte ci sono delle entrate delle uscite quindi insomma questo roster viene un po' modificato e i ragazzi che lavorano con me che colgo l'occasione per ringraziarli sempre per essere molto pazienti hanno fatto il loro roster dei desideri dei sogni dove c'è ovviamente anche lui Emma Stone quindi hanno fatto il roster degli stranieri che loro vorrebbero sì perché un intanto avevano un desiderio mi piacerebbe qui sarebbe fantastico sarebbe un sogno se qui in un'agenzia un giorno venisse che ne so la Bellucci e tac è arrivato c'è un'altra ragazza che lavora con noi sarebbe fantastico un attore d'olivudiano James Franco sono tutti attori che ha lui non so se è chiaro e quindi loro dicono su quest'ondata noi facciamo il nostro roster dei desideri così almeno tu lavori su questo quindi qual è è questo se arrivano e ti dicono puoi scegliere però uno solo Brad Pitt o George Clooney Brad Pitt perché? perché George Clooney sarà il presidente dell'America ah dici ha smesso di fare quel lavoro lì va bene e i cinque Tom abbiamo finito Tom Cruise no Tom Hardy si Tom Hanks si Tom Holland si Tom Brady che cazzo c'è no si chiamava Tom va bene e l'ultima cosa che ti chiedo noi facciamo questa cosa perché all'inizio la facevo in casa mia con il gatto perché mi piaceva conversare con le persone col gatto in braccio ma non lo possiamo portare in giro ce l'abbiamo solo lì e sui quaderni quindi visto che hai visto che hai Byron lui ci guarda la casa perché non viene qua se ce lo puoi ciao Pruchiz si chiama Pruchiz 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 ti faccio conoscere presto Byron grazie mille grazie a voi hai ancora cinque minuti per la domanda se qualcuno vuole se ci sono domande sicuramente uno qua allora dobbiamo fare questo Chuck date intanto che pensate alle domande e se volete chiedergli anche di altre cose su Brad Pitt non so Leonardo Di Caprio domanda prego maestro maestro mi sentite maestro cosa c'è nella sorpresa dell'ovetto kinder fantastico grande tra l'altro è venuto da Venezia per sapere cosa c'è nella sorpresa dell'ovetto kinder che però non sappiamo aprire rispetto a quando li mangiavo io era molto più facile anche i giochini ecologica non si staccano i due pezzi un minion un minion lo metti in studio ti prego insieme al quaderno del Pruciz che ho capito tipo queste vola non lo so non ho mai guardato quello skate idropulsore cose strane domande non abbiate paura questa è la domanda più bella però è vero tu puoi fare quello che vuoi qua vado vai allora in realtà sono due non si può c'è qualcun'altro che ha una sola domanda tra l'altro lei non si tiene neanche in mano ho un microfono non so se hai notato se lo fa tenere da te non ha nessuna intenzione di sporcarsi le mani allora la prima è prima hai detto che nel senso non vai tu a bussare alle porte diciamo degli attori quindi nel senso quando hai deciso di metterti in proprio qual è stato il gradino di fiducia in te stesso e cosa cosa diciamo che fa scattare la fiducia nei tuoi confronti ad un attore che decide di scegliere te come agente e la seconda è a livello operativo cosa pensi o se c'è realmente una differenza tra la tua agenzia perché un attore dovrebbe scegliere la tua rispetto ad un'altra grazie per la domanda allora io lo dicevo prima ragazzi non vado a bussare alle porte perché voglio rispettare i miei colleghi quindi non voglio andare a rubare gli artisti e gli altri questa è la cosa fondamentale perché sono loro che vengono da me cioè il motivo per cui loro vengono da me questo penso forse che il fatto di essere molto diretto alla lunga appunto paga perché in un mondo in cui in una giungla come questa dove è tutto fatto di lustrini di banalità molto spesso di le persone che gestiscono gli artisti in continuazione c'erano 3-4 persone che stanno intorno che continuano a fargli complimenti dalla mattina alla sera quanto sei bella sei fantastica sei stupenda ecco io non sono quel tipo di persona e quindi forse cercano in me qualcuno di più concreto che possa in qualche modo veramente con cui possano veramente avere un dialogo che li possa anche capire che possa anche sinceramente insomma capire quali possono essere i loro punti di forza quindi e andare a fondo su quelli quindi questo penso che loro cerchino questo in me la sincerità mi auguro anche da diciamo essere dipendente da un'agenzia autonomo ovviamente hai rubato qualcuno oppure no la prima cosa che ho fatto quando mi sono ugenziato a questa agenzia con cui lavoravo è stato il fatto di non prendere nessuno degli attori che io avevo gestivo personalmente all'interno perché in quell'agenzia eravamo in quattro agenti e ogni agente gestiva un gruppo di persone quindi per me sarebbe stato facilissimo andarmene come succede spessissimo e prendersi invitare diciamo quelli che erano le persone che gestivo di seguirmi in questa nuova avventura ecco ho voluto fare una cosa completamente diversa proprio ma anche proprio una linea scegliere proprio una linea editoriale completamente diversa e quindi sono stati forse più i casting director i produttori i registi che hanno invitato alcuni artisti a cercarmi perché potevo essere la persona giusta alcuni registi di teatro anche andavo spessissimo a teatro all'epoca adesso meno quindi ecco quello sia andavo sempre sempre a teatro ho fatto lo scouting proprio a teatro ricordo appunto a Alba piuttosto che all'epoca lavoravo con Michele l'ho visto che ancora stava studiando all'accademia e faceva uno spettacolo a teatro l'ho conosciuto in quell'occasione non aveva ancora la gente mi sono presentato un camerino mi sono presentato ho reiniziato da zero in questo modo quante vacanze fai non le faccio le faccio compatibilmente con il lavoro quindi per me alcune volte sono vacanze il festival il festival a Venezia dura dieci giorni io cerco di prendermi due settimane in modo che arrivo due giorni prima mi faccio un po' di mare ogni volta che viaggio per lavoro cerco sempre di infilarci anche altre cose di altro domani volevo per caso andare alla fiera non ce la faccio perché devo tornare in ufficio urgentemente però ecco l'avrei fatto volentieri cioè quindi nonostante l'urgenza sei venuta a Bologna per noi sì questa cosa la sera sì una sera si può fare in treno ho lavorato hai mangiato un ovetto kind da quant'è che non mangiavi un ovetto kind ma è tanto che gli ospiti che vengono a noi sono la cioccolata poco perché lo mangia da poco fa domande? fatele le domande fatele prego mi raccomando sempre uno alla volta così dovrei sempre passare davanti alla telecamera mamma mia allora mi piacerebbe sapere la parte che le piace di più del suo lavoro e magari anche quella che le piace di meno allora la parte che mi piace di più il fatto di poter diversificare però non è la parte più bella del mio lavoro perché il mio lavoro non viene fatto in questo modo così diciamo chi fa soltanto la gente in genere ecco è abbastanza insomma concentrato su quello e basta a me piace invece creare delle occasioni per me per arricchire anche il mio bagaglio di conoscenza di creare dei progetti ad hoc che possano portarmi in giro con cui posso fare scouting con cui posso conoscere un'umanità anche per me è fondamentale quello e la cosa che mi piace di meno e quindi insomma comunque lo scambio la cosa che mi piace di più questo per tornare alla tua domanda e la cosa che mi piace di meno è dover essere concentrato sempre su tutto su più fronti vorrei a volte insomma poter insomma delegare di più su certe cose invece nel nel mio ruolo cioè se arrivi a gestire più carriere e più personale devi essere come imprenditore devi essere molto attento e molto concentrato a qualunque cosa per chi lavora pure con l'estero quindi col fuso orario quindi quando finisci di lavorare per l'Italia alle sei e mezza e incominci a lavorare per l'America ecco è un po' la concentrazione 24 ore al giorno è un po' pesante però insomma mi piace sempre tanto grazie a te un'altra prego e che differenza c'è tra manager e agente se sono due ruoli che possono lavorare è vero è vero l'abbiamo introdotto ma poi non lo grazie sono io che mi sono confuso allora qui in Italia non c'è ancora questa differenza in Italia c'è nel mondo discografico ma non nel cinema in America è invece da anni da sempre c'è questa differenza la differenza sostanziale è che un agente fa quello che vi ho raccontato prima quindi sceglie le sceneggiature ovviamente insieme all'artista e diciamo fa il contratto fondamentalmente è un rapporto più quasi non ti dico freddo però non così poi alla fine quotidiano invece il manager è un agente che prende il 10% degli importi dell'artista come anche qui in Italia tant'è che la serie televisiva si chiama Disporsant 10% la serie originale francese mentre il manager che prende molto spesso il 15% è colui che invece ti segue a 360 gradi quindi quello che è quello che crea magari il team di lavoro che gestisce i rapporti con tutte le varie figure del team che lavorano con quell'artista è diciamo uno sguardo più ampio sulla carriera dell'artista quindi tu a volte parli con i manager di questi artisti c'è qualche artista di questi magari un pochino più famosi con cui tu in realtà non parli quasi mai parli sempre solo con il manager no quindi l'artista può avere sia il agente che il manager sì sì in America quasi tutti hanno sia il manager che la gente tant'è che gli importi che loro hanno molto spesso sono in tasca gli arriva meno della metà 10 di qua 15 di là più l'avvocato più l'avvocato più il SAG perché lo usavano il sindacato quindi insomma però parliamo di importi realmente fossero quelli problemi ecco appunto fossero quelli problemi se vogliono sponsorizzare mi veniva in mente un'intervista quel giochino che faceva James Carden che adesso ha smesso di fare late show in Los Angeles con Kevin Hart e spill my guts cioè spill o mangi una cosa schifosa o rispondi a una domanda imbarazzante gli hai chiesto quanto hai preso per Jumanji e lui non sapeva come fare solo che davanti aveva tipo una lingua di serpente marcia alla fine ha detto non ce la faccio non ce la faccio siamo sui 10 12 15 20 milioni una cosa tipo 15 o 20 20 milioni per e poi però ha subito detto questo era il collegamento però poi devi togliere questo 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 e questo e io comunque l'ho fatto l'ho fatto per una cosa ha cercato di giustificarsi ridendo facciamo molto ridere quel pezzo c'è un'altra domanda del maestro volevo raccontare tra maestri sai e beh sì ci si intende allora volevo raccontarti che io lo scorso gennaio sono stato a trovare uno degli artisti della tua factory Victor Belmondo al festival dell'Alpe 2 perché si del caso che il nostro amico sia nato lo stesso giorno mese anno di un altro mio carissimo amico allora ovviamente ho detto se l'astrologia è una disciplina corretta avrà voglia di fare amicizia con me infatti abbiamo fatto amicizia se finisce qua è una storia bellissima no è giusto no è giusto per dirti che sta per debuttare come regista eh insomma mi dico sempre a sto mio amico che gavaria da cambiare mestiere perché lo sai che mestiere fa lui è il capitano della squadra di calcio più importante di una regione italiana però lo sai qual è questa regione Basilicata il Molise poi comunque tornando dall'Alpe 2 in ogni caso ho viaggiato su una corriera Iveco made in Italy e ho detto ammazza pure qui in Francia hanno la scuderia italiana è una storia bellissima io farei un applauso per questa storia se qualcuno ha un'altra storia sua che non ha veramente a che fare ma così bella la potete raccontare e tante volte magari funziona come contesti è un contesti monologhi anche questo ma tu sei la prima volta che vieni qua assolutamente sì da Venezia sei venuto allora ti dico che fosse il depolito dei tram e lo è se l'unico pezzo di rotaia di tutta Bologna dei tram rimasta non è qua ma è l'impronto tra via Ugo Bassi via Venezia e l'abbiamo è capito comunque la prima cosa che ho sentito dire da questa persona che comunque sta diventando il mio idolo indiscusso è che siamo arrivati ha incontrato Daniele e ha detto lo sai che il 20 che arriva a Corticella l'ultima fermata si chiama qualcosa a Bayron scusa hai ragione ma noi ci eravamo visti a Torino ma noi ci siamo visti a Torino ci siamo visti e sono esperti e tutti le serie sono soddisfatti e rimborsati umiltà comunque l'umiltà c'è l'ultima domanda che prendiamo altre due domande che prendiamo volevo chiedere per la nuova generazione che si approccia a questo tipo di lavoro dato che come lei stesso prima diceva non c'è un percorso delineato ad oggi un percorso di studi che tipo di consiglio può dare per i tempi di oggi a livello di esperienza o a livello di percorso cosa per fare la gente sì sì assolutamente sempre dietro le quinti appunto cosa magari consiglia dato alla sua esperienza ecco ad oggi allora dopo aver seguito il mio corso alla Onimarconi si può comprare con un link su questo video no sicuramente guarda il percorso di studi più buono più vicino a questa professione qua è qualcosa che possa essere legato diciamo alla diplomazia alla psicologia e alla giurisprudenza queste sono le tre fasi diciamo però quella della diplomazia forse è ovviamente della cultura cinematografica quindi questo vabbè senza dubbio questo qui è abbastanza assodato quindi però la diplomazia quello serve molto il fatto di essere molto diplomatici e anche molto elastici nel risolvere i problemi in maniera veloce quindi un problem solving molto insomma spiccato perché nell'arco della stessa giornata devi risolvere magari a volte mille cose contemporaneamente e quindi diciamo che gli studi sono questi però ancora adesso secondo me non essendoci un vero e proprio corso insomma di formazione la cosa migliore è sempre andare a fare esperienza in un'agenzia molti degli saggisti che sono venuti da me dopo che mi hanno conosciuto perché sono andato a fare magari delle lezioni all'università o al sole 24 ore insomma alcuni dei ragazzi che hanno fatto questi stage là cioè questi master in questa università poi dopo sono venuti a fare lo stage da me e hanno poi lavorato e continuano a lavorare da me dopo lo stage quindi senza dubbio c'è forse l'esperienza sul campo ultima ultima e volevo chiederti se nel passare alla libera professione ci sono degli aspetti del tuo lavoro che hai non dico reinventato però che hai scelto di fare tuoi in un modo diverso delle cose che hai cambiato ho capito la domanda nel passare alla libera professione cioè c'è qualcosa che decisamente proprio cioè proprio ho cambiato completamente rispetto a quello che facevo prima io prima ero un agente di un'agenzia come appunto nell'impianto americano che dicevo prima che in una stessa agenzia ci stanno centinaia di agenti ero un agente che lavorava la mattina insomma faceva le sue ore di lavoro e molto spesso potevo chiudere non avevo la mia fabbrichetta diciamo lavoravo per altri lavoravo sotto padrone quindi a un certo punto finiva nel bene o nel male finivo e avevo anche una certezza tutti i mesi avevo il mio stipendio avevo un'entrata fissa da quando mi sono messo in proprio ovviamente queste due cose sono completamente cambiate uno che guadagno solo dopo che ho garantito lo stipendio agli altri e quindi a volte prendo le briciole che va benissimo perché insomma non mi posso lamentare e l'altro è che appunto non ho più un attimo di tempo però questo mi dà la possibilità nella libertà di avere la mia struttura la mia compagnia la libertà di poter fare il lavoro come voglio io cioè quindi se voglio inventarmi un progetto per andare a fare scouting in giro per l'Italia non lo devo chiedere a nessuno lo faccio io lo chiedo magari ecco lo devo chiedere perché devo cercare delle risorse perché questo progetto dopo si realizzi quindi devo cercare degli sponsor però ecco è sempre una cosa che nasce dalla mia volontà quindi questo sì non c'è nessuno che mi dice di fare qualcosa è sempre molto bello smettere di farvi fare domande perché vuol dire che ne avete fatte tante io sono molto contento veramente grazie mille grazie a voi grazie mille a te grazie mille a te grazie mille a te